Il mondo della vela Ovviamente rinnovato con tantissimo pubblico e questo è un piacere e ovviamente come diceva Kate saremo onorati che la nostra medaglia potesse avvicinare sempre più persone al mare e allo sport della vela e quindi noi ce la metteremo tutta per portare avanti questo progetto C'è tantissimo lavoro dietro una medaglia olimpica, riassumiamo questo lavoro, sacrifici, sforzi, privazioni, c'è tutto? Sì, però devo dire che siamo dei privilegiati per avere la possibilità di farlo e per questo dobbiamo ringraziare la federazione, i nostri club di appartenenza, la finanza e la niene e sicuramente poterlo fare con serenità e con felicità è fantastico Grazie 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 Grazie